motore e partiamo un laghetto un cancello aprite! bip bip e questa che cos'è? questa è una berlina questa è una familiare con dei palloncini la fontana un arco di trionfo passiamo sotto e questa? questa è una cabriolet wow una bella rampa e questo? questo è un fuoristrada siamo arrivati ciao bibica oggi abbiamo incontrato una berlina una cabriolet è un fuoristrada ciao uno due tre quattro cinque sei sette una formichina in perlustrazione cammina veloce con le sue zampette un'anguria in un sol boccone e ora il pancino come un'anguria e comincia a rotolare dell'anguria sei germogli fantastico amici dai semi dell'anguria sono cresciuti sette germogli ciao amica giraffa è bello pattinare tutto il giorno per le colline sei passato sopra i nostri germogli danneggiandoli costruiamo una staccionata per proteggere i nostri germogli da giraffa distratte prendiamo due lunghi tronchi e ci inchiudiamo delle tavole una due tre quattro cinque sei sette pronta piace anche alla formichina innavchiamo i germogli si sono ripresi abbiamo contato fino a sette e la nostra amica giraffa non farà più danni sì ci puoi passare se costruiamo uno scivolo attenzione un palo due pali e una tavola avanti puoi andare stai volando alla prossima puntata con calma con calma ciao ragazzi una piccola formica ha bisogno del vostro aiuto stai imparando a costruire case ma fallisce sempre andiamo subito guarda che strane queste pile cosa saranno penso di aver capito non imparerò mai a costruire una casa ma adesso smetti di piangere ti aiuteremo noi ok per prima cosa dobbiamo incollare le pietre insieme così non cadono per terra oh ho un'idea ora incolleremo le pietre insieme prendi le tue pietre uno strato un altro strato ed ecco qua ha funzionato evviva non piangere io so cosa dobbiamo fare bisogna attaccare le pietre con il cemento che cos'è il cemento è una malta speciale utilizzata nella costruzione e dove possiamo trovarlo è ora di trasformarsi cosa dovrei diventare per fare del cemento uno scavatore una betoniera o un trattore betoniera pic pic trasformazione metti uno strato di pietre sì certo più cemento ragazzi mettete altre pietre ecco fatto già questa volta non cadrà e adesso è grigio è così semplice io pensavo a una casa più carina e colorata ecco rimedieremo subito diamo un'occhiata nel mio camion cosa possiamo usare per rendere bella la casa una palla una corda o della vernice vernice tocco finale ecco qua wow che bella casa che abbiamo fatto ciao ragazzi come state? wow che bella casa sì grazie al loro aiuto sono riuscita a fare una casa bellissima piccola amica non devi abbatterti subito quando qualcosa non va esatto e una buona malta farà il resto �erso so so ora so 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 Grazie.